E' guerra aperta nel Partito Democratico, nonostante gli organismi ufficiali del PD abbiano deciso per andare avanti con la mozione di sfiducia. Quattro consiglieri accusano gli altri colleghi di partito di aver scelto le carriere personali. Risposte di questi ultimi che ricordano il fallimento dell'esperienza Lubrano, su cui tutti i democratici concordano. Mentre la città si trova senza un'amministrazione che preveda la presenza di assessori e una lotta senza quartiere nel centro-sinistra, sono tante le emergenze che stanno venendo a galla. L'ex Sida Cotède segnala della perdita dei fondi per le case popolari, mentre Sassu si sofferma sui mancati introiti dalla società dei parcheggi. Intanto sono alla disperazione gli stagionali dell'Aimeri. L'STL del Nord Sardegna è impegnato in questa settimana in un educational tour dedicato al mercato svedese. Tour operator e giornalisti provenienti dall'area di Stoccolma e Göteborg stanno visitando il Nord Sardegna, invitati proprio dal sistema turistico locale, e scoprendo l'offerta del nostro territorio tra culture e no gastronomie e risorse naturali. Un saluto a tutti voi ben ritrovati con l'informazione su Catalan TV. Continua la bagarre nel centro-sinistra algherese, domani è fissato il Consiglio Comunale, mentre proseguono le riunioni di partito. Molto probabile che arrivino le dimissioni della maggioranza dei consiglieri nella giornata di giovedì per far decadere il sindaco. Intanto è guerra aperta nel Partito Democratico. Nonostante gli organismi ufficiali del PD abbiano deciso per andare avanti con la mozione di sfiducia, quattro consiglieri accusano gli altri colleghi di partito di aver scelto le carriere personali. Risposte di questi ultimi che ricordano il fallimento dell'esperienza Lubrano su cui tutti i democratici concordano i servizi. La scelta del sottoscritto dei consiglieri Tanchi, Scalvi e Scala, di non partecipare alla discussione della mozione di critica nei confronti del sindaco Lubrano, presentata da due esponenti del PD, è stata da me chiaramente spiegata in occasione della seduta di Consiglio Comunale di venerdì scorso. Così il consigliere comunale Matteo Tedde giova comunque ribadire alcuni semplici concetti. Nel documento si chiedeva al primo cittadino di azzerare l'esecutivo, azione posta in essere proprio nella giornata di venerdì. Al di là della tempistica, il sindaco ha di fatto accolto la richiesta votata dal direttivo algherese del partito. In questo modo si è concretizzata la possibilità di ricompattare la maggioranza attraverso la nomina di nuovi assessori di diretta espressione delle forze politiche, consentendo di ripartire con un'azione amministrativa più incisiva, al fine di perseguire gli obiettivi contenuti nel programma di coalizione. Alla luce di tali fatti non sussistevano più le motivazioni di fondo che hanno portato alla formulazione della mozione in parola. I due firmatari, nonostante tutto, hanno ritenuto di andare avanti, facendo squadra con le soddisfatte forze di centrodestra e con loro approvando il documento, dopo diverse ore di attacchi, spesso sconfinanti nell'offesa personale a carico del sindaco Lubrano. Appare evidente, continua Matteo Tedde, come l'obiettivo reale di tale iniziativa non fosse il rilancio dell'azione amministrativa, ma la cacciata del capo della coalizione, con l'intento di accelerare il ritorno alle urne per dare soddisfazione a personale esigenze di alcuni esponenti politici cittadini, non certo animati, da preoccupazione per le sorti della città, del centro-sinistra e del nostro partito. Siamo convinti che Alguero e il PD non siano nella disponibilità esclusiva di un paio di persone. Dunque, nel condannare gli atteggiamenti sopra descritti, conclude Matteo Tedde, si auspica una presa di coscienza da parte di tutti nella necessità di mettere da parte le personalissime carriere politiche di ognuno e mettere al centro la nostra comunità. E adesso il servizio riguardante una nota diffusa questa mattina a firma di un nutrito gruppo di dirigenti del Partito Democratico, critica e rispetto chi oggi cambia idea e si schiera con Lubrano. La mozione presentata in aula dai consiglieri Cacciotto e Daga nasce da un percorso che il Partito Democratico è intrapreso fin dal marzo scorso, legittimato dagli organismi del partito, democraticamente eletti e pienamente rappresentativi, chiedendo a gran voce un cambio di passo nell'azione amministrativa. Lo dicono un gruppo di dirigenti del PD, di fronte all'inerzia e alla difficoltà di Stefano Lubrano, anche come leader della coalizione, si legge nella nota, di capire e cogliere l'aiuto che gli veniva offerto dal PD, mettendo a disposizione progettualità e competenze, il partito non ha potuto far altro che prenderne atto e con responsabilità avviare una riflessione che ponesse al centro la città. Ci siamo chiesti, dicono i democratici, se fosse più responsabile sfiduciare il sindaco oppure continuare in un'azione amministrativa decisamente al di sotto delle attese e incapace di aggredire i problemi che attanagliano la nostra città, se davvero contassero di più le convenienze personali e di partito o il bene della città. E abbiamo ancora una volta scelto la città. Tra l'altro, si legge ancora, proprio dal PD sono giunte in modo unitario le indicazioni delle figure istituzionali a ricoprire incarichi assessoriali per collaborare col sindaco nella auspicata svolta, mentre Mario Bruno Enrico Daga, rispettivamente vicepresidente del Consiglio regionale, e assessore provinciale hanno dato e mantenuto la disponibilità e il capogruppo Matteo Tedia prima ha accettato e poi declinato l'invito. A questo percorso, scrivono ancora i democratici, hanno contribuito anche i consiglieri che oggi, riconoscendosi nelle posizioni del consigliere Calvia, lanciano accuse ignobili e infamanti contro quelle espresse democraticamente all'interno del partito. La mozione discusse in Consiglio Comunale, ben più moderata rispetto al deliberato degli organismi del partito, è stata l'occasione finalmente per parlare di punti qualificanti del programma. Purtroppo ancora una volta, si legge ancora, il sindaco ha eluso il confronto in aula, preferendo la dialettica dell'insulto e della demagogia spicciola. Ma anche quattro coraggiosi colleghi di partito hanno deciso di non partecipare al dibattito, preferendo una ricostruzione anacronistica e scorretta solo sulla stampa. Scappano dai direttivi, si assentano dai consigli comunali, non hanno avuto neppure la volontà di difendere le posizioni del sindaco, lasciato da solo in aula. Appare evidente chi, bramoso di qualche incarico e di visibilità, è disposta a barattare la propria dignità e difendere il proprio posto in Consiglio Comunale e chi vuole il bene della città. Una città senza guida politica, prosegue la nota dei democratici, paralizzata nell'azione amministrativa, in cui qualcuno cerca di servirsi delle istituzioni piuttosto che di servirle. Così come qualcuno cerca di servirsi del partito e laddove non ci riesce, perché in posizione minoritaria nelle assemblee democratiche, riversa sulla stampa tutto il suo livore. Folgorati sulla via di Sant'Anne, i quattro consiglieri rinnegano anche quanto da loro stessi detto in precedenza. C'è chi ha proposto la mozione di sfiducia, chi ha immediatamente rinnegato quanto ha affermato la presenza stampa solo qualche ora prima. Chi aveva giurato, si legge ancora nella nota, che si sarebbe rimesso alla volontà del partito e invece ha preferito dividere il gruppo. Unica nota positiva deriva dal fatto che finalmente sentiamo la voce del capogruppo. Peccato che anziché unire alimenti, frizioni e divisioni e preferisca ricostruire infantilmente agli organi di partito provinciale e regionale una situazione assolutamente falsa, piena di ipocrisie e di beceri accuse. La risposta è già fornita in direzione provinciale, chiude la nota dei democratici. Gli organismi del partito abilitati a decidere risiedono in città. Si sono già espressi unitariamente e chiaramente. Nessuno può permettersi di sovvertire le decisioni democraticamente assunte. Non lo consentiremo, chiude la nota. E passiamo ora a parlare di alcune importanti emergenze della città segnalate da esponenti politici e cittadini. In primis la perdita di fondi e progettualità riguardo le case ad edilizia sociale. Le politiche abitative della giunta Lubrano, che costituivano un fiore all'occhiello delle sue dichiarazioni programmatiche e un vanto della sinistra algerese, sono miseramente naufragate. Dopo la mancata partecipazione al piano città, che avrebbe consentito di recuperare qualche milione di euro per rigenerare aree urbani degradate, utilizzando i progetti della precedente amministrazione di centrodestra, gli algheresi hanno dovuto assistere alla mancata partecipazione al bando regionale per l'edilizia abitativa, per la riqualificazione di mobili degradati. Così Marco Tedde, capogruppo del PDL. Concorrendo a quest'ultimo bando, ricorda l'ex sindaco, l'amministrazione avrebbe potuto realizzare 11 alloggi nell'edificio di Svia Santi Angeli e riqualificare 23 alloggi alla pietraia. Queste straordinarie negligenze sono state da noi denunciate con forza, ma evidentemente a poco è servito. Ora apprendiamo che il comune di Alghero è stato anche escluso dal programma regionale di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile per la realizzazione di 24 alloggi a Santa Mere la Palma, pare per carenze nel piano di gestione e assegnazione. Un altro smacco per i cittadini algheresi in attesa di un alloggio a canone sociale. Rimane in ballo il progetto di housing sociale presentato nel 2010 dalla giunta Tedde, premiato dalla regione col primo posto e con una dotazione di 7 milioni di euro. Progetto costituito da due interventi di edilizia sociale per complessive 105 unità abitative, di cui 75 alloggi, 40 sociali a Santa Mere la Palma e 30 alloggi, 16 sociali in città. Un progetto di grande pregio, ricorda Marco Tedde, preparato dalla precedente amministrazione di centro-destra con il contributo progettuale della loro facoltà di architettura e con la partnership di Laore. Con profondo sconcerto, apprendiamo da un intervento del direttore di architettura che anche questo innovativo progetto, nel quale molto tempo avevamo creduto, rischia di andare a carte 48 per lo scarso interesse dell'attuale amministrazione. Scarso interesse che avevamo già denunciato allorché dalla regione ci avvisarono che il comune non aveva partecipato alla prima riunione operativa. Ora arriva la triste conferma da parte del Dipartimento di Architettura. Arrivati a questo punto, con una maggioranza oramai dissolta ed un sindaco senza assessori, impegnato in via esclusiva a combattere la guerriglia sulle poltrone, speriamo solo in un rigurgito di senso di responsabilità. Non è più possibile assistere a questa irresponsabile guerriglia che ha paralizzato l'economia cittadina e fatto ritornare al ghero indietro di 15 anni. Sono i dipendenti stagionali che si occupano dell'igiene urbana a chiedere attenzione per il loro lavoro. Oggi si trovano a vivere un grave disagio che, dicono i lavoratori, nasce dal fatto che nessuno si è mai preso la briga in tutti questi anni, anche perché la situazione va avanti da diverso tempo, di dover aumentare a più di 14 settimane il lavoro degli stagionali, senza considerare che in quest'ultimo anno hanno ridotto le settimane a 31 e per il nuovo appalto se ne prospettano sempre 14 che sono comunque insufficienti per dover andare avanti per un intero anno per le famiglie dei lavoratori algheresi. Ora ci si pone una domanda. Passato questo periodo di stagionalità ridotta, come dovremmo affrontare i restanti nove mesi dell'anno? La soluzione più opportuna sarebbe quella di prolungare il periodo di lavoro degli stagionali ad almeno sei mesi lavorativi, così come da poter affrontare i restanti sei con una disoccupazione ordinaria. Ne gioverebbe sicuramente sia la città, perché è totalmente sporca, che i lavoratori. Abbiamo visto che la politica cittadina si sta occupando dei dipendenti in house e dei cosiddetti parcheggini. Bene, si legge ancora, noi non siamo da meno e chiediamo pari trattamento, visto che non sappiamo più come fare ad andare avanti con le nostre famiglie. L'associazione iniziativa Futura interviene ancora una volta sulla questione dei parcheggi a pagamento, denunciando questa volta il mancato introito di circa un milione di euro da parte del Comune derivante dalla TOSAP, la Tassa per l'Occupazione di Spazi e Deree Pubbliche. Sentiamo nel servizio quanto affermato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'associazione iniziativa Futura interviene ancora una volta sui parcheggi a pagamento e dopo aver denunciato l'illegittimità per la violazione dell'articolo 7,8 del Codice della Strada in base a quanto riferito dal Consiglio Direttivo, ancora una volta interviene verificando il rapporto che intercorreva tra l'amministrazione e la società che gestiva i parcheggi a pagamento. Dalla nostra verifica, si legge nella nota a firma del Consiglio Direttivo, è emerso che l'amministrazione di Alghero non ha mai fatto pagare la TOSAP alla società che ha gestito i parcheggi a pagamento in città negli ultimi due anni, creando un buco di bilancio, scrivono, di circa un milione di euro, oltre sanzioni di interessi. Abbiamo verificato, si legge ancora, che il capitolato d'oneri per l'affidamento della custodia e gestione delle aree destinate a parcheggio a pagamento all'articolo 9 afferma il canone sarà ad avversarsi entro il termine perentorio del quinto giorno del mese successivo, oltre agli eventuali oneri di occupazione del suolo pubblico, se ed in quanto dovuti. Su questa materia, si legge ancora, via giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e la TOSAP appunto, il tributo è dovuto non soltanto in relazione alla limitazione o sottrazione all'uso normale e collettivo di parte del suolo pubblico, ma anche all'utilizzazione particolare ed eccezionale di cui il tributo rappresenta il corrispettivo. Perciò l'occupazione, scrivono da iniziativa futura di un'area pubblica da parte di un concessionario privato, va assoggettato a tassazione in capo al concessionario stesso, integrando questa gestione del parcheggio un'attività economica lucrativa e pertanto inquadrabile in un esercizio di impresa. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, si deve dunque prescindere dalla nottura dell'occupazione e non va attribuito rilievo alcuno agli atti di concessione, con la conseguenza che questi ultimi sono irrilevanti ai fini fiscali. La TOSAP, scrivono ancora da iniziativa futura, è dovuta, oltre che per l'effettiva sottrazione del suolo pubblico alla disponibilità della collettività, anche in relazione al beneficio economico che il contribuente ritrae dall'utilizzazione dello stesso. Inoltre, la Cassazione ha affermato che neppure la predeterminazione delle tariffe di parcheggio da parte del Comune può valere a escludere lo specifico vantaggio del concessionario. Iniziativa futura, oltre a denunciare pubblicamente questi mancati introiti da parte del Comune, prosegue la nota. Si domanda come un'amministrazione possa tassare i cittadini e i commercianti e non richiedere somme così consistenti relative alla gestione dei parcheggi a pagamento. Viviamo un periodo in cui l'amministrazione locale ha a disposizione poche risorse, ma se le entrate comunali non vengono gestite in maniera corretta, a pagarne le spese saranno sempre i cittadini che avranno servizi scarsi con tariffe elevate e si chiude la nota di iniziativa futura. È decollato nell'aeroporto di Alghero il nuovo servizio di connessione internet gratuita. Dopo l'attivazione dell'innovativa tecnologia della Wi-Fi TV che permette di vedere i programmi televisivi live sui dispositivi portatili, l'aeroporto di Alghero primo tra gli aeroporti sardi offre i passeggeri il collegamento ad internet gratuito. Dal 1 settembre 2013, grazie ad un accordo di collaborazione con Tiscali e in linea con la Best Practice nei migliori aeroporti europei e di più alti standard internazionali, l'aeroporto di Alghero offre la connessione gratuita a tutti coloro che transitano nello scalo. I passeggeri potranno agevolmente connettersi alla rete Wi-Fi tramite computer portatile, tablet o smartphone per navigare in internet o scaricare la posta gratuitamente e comodamente seduti in attesa del proprio volo. L'omnium cultural dell'Alghea ha deciso di donare al municipio di Alghero dei libri di Raffaele Caria. Si tratta di Toponomastica algherese e del mondo del Calic. Questo, come spiegato dal presidente Stefano Campus, per agevolare il rispetto della toponomastica, fornendo quindi ulteriori criteri informatori. L'omnium cultural dell'Alghea nella persona del suo presidente Stefano Campus rende noto di aver deciso di donare al municipio di Alghero due opere del filologo e studioso Raffaele Caria che trattano di toponomastica. Ritengo sia nostro compito, spiega Campus principalmente dell'amministrazione comunale attraverso la commissione consigliare e gli uffici competenti, valorizzare i toponimi storici dell'area urbana e del territorio. È necessario che l'amministrazione adotti ulteriori criteri informatori finalizzati al rispetto della toponomastica preesistente nei documenti storici, nonché la corretta applicazione della toponomastica bilingue, in particolare all'interno del centro storico. È importante sottolineare che il nostro concittadino Raffaele Caria, scomparso nel 2008 e al quale l'amministrazione ha deciso di dedicare il parco di Via Liguria, studioso della toponomastica della nostra città e di tutto il territorio, ha pubblicato opere importanti tra le quali il mondo del calico e toponomastica algherese, introduzione allo studio dei nomi di luoghi della città, del territorio e delle coste di Alghero. Con queste due opere vengono raccolti dalla viva voce di pescatori, agricoltori, pastori, cacciatori, oltre 2000 toponimi. Vi è un riscontro e una raccolta documentale effettuata in diversi archivi storici pubblici e privati. Vi è inoltre uno studio lessico-grafico e una trascrizione dei toponimi sulle carte dell'Istituto Geografico Militare. Per questi motivi ho deciso di donare a questa amministrazione le due opere di Raffael Caria, il mondo del calico e toponomastica algherese, con l'auspicio che possano rappresentare un valido supporto per la Giunta Comunale, la Commissione Consigliare e per l'Ufficio Toponomastica ad essere adottati come linee guida per una corretta applicazione della nostra toponomastica e per la valorizzazione del nostro patrimonio storico, culturale e linguistico. Ed ora diamo la linea alla regia per la pubblicità tra poco. Ritorniamo in studio. L'STL, il Sistema Turistico Locale del Nord Sardegna, impegnato in questa settimana in un educational tour dedicato al mercato zedese. Tour operatori e giornalisti provenienti dall'area di Stoccolma e Gothenburg stanno visitando il Nord Sardegna. Invitati proprio dall'STL stanno scoprendo l'offerta del nostro territorio tra cultura, enogastronomia e risorse naturali. Il Sistema Turistico Locale Sardegna Nord-Ovest prosegue le attività di promo commercializzazione del territorio sull'area scandinava. Ha preso il via lo scorso sabato 12 ottobre e proseguirà fino al 19 il FAM Trip con operatori, giornalisti e blogger svedesi. Un lungo tour sul Nord Sardegna dedicato alla scoperta dell'offerta territoriale organizzata secondo le esigenze del mercato svedese. I viaggi degli svedesi in Italia si legge nella nota ufficiale dell'STL si concentrano nel periodo compreso fra aprile e ottobre con il picco nel mese di luglio ed elevate presenze nei mesi di giugno e settembre. Per quanto riguarda l'alloggio preferito il turista svedese predilige alberghi di buon comfort prevalentemente hotel 3-4 stelle prestando estrema attenzione al rapporto qualità-prezzo. Il target è composto per circa il 20% da turisti senior dai 60 ai 74 anni il 14% dai giovani e studenti fino ai 17 anni il 15% dai 18 ai 29 anni e il 26% dai 30 ai 44 anni poi la fascia del 25% che comprende i 45-59 anni. Famiglie con bambini coppie senza figli anziani rappresentano i profili principali riferiti ai turisti svedesi. Grande apprezzamento da parte degli operatori coinvolti che dichiarano il forte interesse a stipulare contratti di collaborazione con gli operatori turistici locali i quali hanno la possibilità di incontrarli venerdì 18 in occasione del B2B un educational che passa per i parchi naturali le città medievali e le principali destinazioni marino-balneari del nord Sardegna con attenzione alle zone interne per le quali si sta lavorando alla costruzione del prodotto turistico rurale. Il gruppo FAI di Alghero col patrocinio del parco naturale regionale di Portoconte della fondazione Meta Terra venerdì 18 ottobre alle 17.30 nell'ambito della serie di incontri venerdì del FAI una conferenza sull'ex colonia penale di Tramariglio uno straordinario progetto di recupero degli archivi di un ex carcere recuperato e allestito da dei detenuti in articolo 21 grazie alla collaborazione tra il parco di Portoconte e la casa circondariale di Sassari. Quattro anni di attività per lo spazio T questo compleanno è stato festeggiato lo scorso venerdì quando a partire dalle 10 nella sede di Via La Marmora sono stati presentati nuovi corsi per l'anno 2013 e 2014 sentiamo le novità Aperto nel 2010 dall'attore Maurizio Puline e dall'attrice e regista Chiara Murru lo spazio T impegnato nella progettazione e nella produzione di eventi teatrali porta avanti con grande professionalità e costanza l'attività di formazione proponendo laboratori di teatro per bambini ragazzi e adulti e da quest'anno corsi di magia e di tango corsi per spettatori famiglie corsi di lettura e di circo per quanto riguarda i bambini a partire dai 5 anni l'offerta di laboratori e attività è variegata intanto la magia del clown un primo approccio ludico al mondo del clown e della magia gioco teatro e laboratorio di teatro tra giochi e movimento per imparare a gestire il proprio corpo in relazione con gli altri e con lo spazio play giocare e citare in inglese dove l'apprendimento della lingua inglese avviene attraverso il gioco del teatro due invece i laboratori per ragazzi creazione scenica riservato ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni dove il primo approccio al testo teatrale è un viaggio di ricerca creativo e coinvolgente dal testo alla scena per ragazzi dai 14 ai 17 anni uno dei gruppi più attivi della scuola di teatro che ogni anno mette in scena uno spettacolo intero grande novità di quest'anno la scuola d'arte magica gestita dal club R Udini che a partire dagli anni 11 svela i segreti della magia e dell'illusionismo per gli adulti uno studio più intenso del corpo della voce e dell'addizione con i laboratori regie performance la voce del testo è action inglese in movimento l'offerta continua con un imperdibile laboratorio di tango per principianti assoluti grazie al quale durante l'anno sarà possibile incontrare maestri internazionali di tango argentino per chi non vuole fare teatro ma desidera approfondire le sue conoscenze teatrali Spazio T lancia Andiamo a Teatro corso per spettatori per le famiglie il sabato alterni insieme il laboratorio di gioco teatro genitore bambino a partire dai tre anni e raccontami una fiaba laboratorio di lettura riservato a mamma e papà organizzati in collaborazione con la libreria e il labirinto altre novità di questo quarto anno dello spazio T le feste di compleanno teatrali a novembre riprenderà l'appuntamento domenicale con gli aperitì aperitivo teatrale che quest'anno prevede la partecipazione di tanti artisti e conferma la collaborazione del gas la lumaca felice di Alghero il 18 e 19 ottobre la Croce Rossa della Sardegna promuove il progetto raccolta alimentare in collaborazione con i principali punti vendita della Conad l'invito è rivolto alla generosità e alla sensibilità dei sardi chiamati a fare la spesa per le famiglie meno abbienti un intervento straordinario in tutta l'isola per affrontare l'emergenza alimentare che vede coinvolte un numero sempre più crescente di persone in difficoltà per Alghero il punto vendita è lo Superstore Conad di Via Mazzini non è cominciata positivamente l'avventura della Dinamo Banco di Sardegna nel campionato di Lega A la formazione di coach Meosacchetti domenica sul parquet della Virtus Bologna ha perso all'esordio 98-88 e non ha quindi guadagnato nemmeno un punto ma non c'è tempo di soffermarsi già domani la squadra bianco-blu sarà di scena in Germania per la prima gara di Euro Cup per giocare contro l'Holdenburg dunque ancora una partita importante lontano dal caloroso pubblico di casa del Palasserra di Vigni dove la Dinamo sarà di scena domenica alle 18.15 contro Cantù la squadra lombarda con la quale si chiuse anche l'avventura nei play-off nella stagione appena trascorsa era l'ultima notizia dell'edizione di oggi del nostro telegiornale vi lascio come di consueto alle previsioni del tempo vi ringrazio per averci seguito arrivederci a presto